Ciao ragazzi, oggi saltiamo in sella su una bellissima Yamaha e stiamo parlando della MT09 La moto che vedete in questo video è immatricolata a luglio del 2018 e conservata da un unico proprietario Pensate che ha percorso solo 760 km Ovviamente le condizioni sono pari a nuovo Moto pronta a partire Per chi non conoscesse questa straordinaria naked muscolosa Un propulsore di 900 cm3, 3 cilindri, veramente interessante Una coppia e una ciclistica veramente fenomenale Ovviamente come tutte le moto di ultima generazione sono dotate di ABS e controlli di trazione Insomma, una moto veramente, veramente nuova Se volete venire a scoprire ulteriori informazioni su questa nostra offerta Ci trovate a Carono per Tosella in via Bensizza 800 O in alternativa su nostro sito internet giudicimoto.it Giudici Moto, realizza il tuo sogno Scopri la tua prossima moto nella vasta esposizione di usato selezionato e garantito come nuovo Fatti consigliare e acquista in totale sicurezza Vuoi vendere la tua moto usata? Richiedi una valutazione Ti aspettiamo a Carono per Tosella in via Bensizza 800 e su giudicimoto.it